Sul Mediterraneo è presente una circolazione depressionaria con perno a ridosso della Sardegna. Tale depressione è mantenuta in vita dall'apporto di aria fresca proveniente dal nord atlantico che scorre lungo il bordo orientale dell'alta pressione estesa tra le Canarie e le isole britanniche. La nostra regione attualmente si trova sotto il ramo ascendente della depressione per cui le correnti sono orientate dai quadranti meridionali trasportando così polvere e pulviscolo prelevati dal deserto del Sahara. Nel corso dei prossimi giorni il vortice tenderà a spostarsi verso Levante consentendo l'ingresso di aria via via più fresca che determinerà condizioni di instabilità con piogge sparse e locali temporali ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 7 maggio condizioni di cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio possibilità di temporali anche di forte intensità nelle aree a ridosso dei rilievi specie sul cilento centro meridionale. Tuttavia i fenomeni saranno intervallati da pause asciutte, temperature in diminuzione con valori che si riporteranno in linea con la media stagionale, venti moderati prevalentemente da est e mare poco mosso sotto costa e mosso a largo. Domenica 8 ancora condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse che specie nel corso del pomeriggio potrebbero assumere carattere temporalesco. Temperature senza particolari variazioni, venti deboli orientali con improvvise raffiche durante i fenomeni. Mare poco mosso. Da lunedì l'instabilità tenderà ad interessare maggiormente le aree montue se durante il pomeriggio con parziali sconfinamenti lungo la costa centro meridionale della regione. Intanto l'alta pressione inizierà a spingere verso la nostra penisola ricevendo un contributo di aria calda dal nord d'africa e allontanando così la depressione verso la penisola ellenica tra martedì 10 e mercoledì 11 dunque potrebbe aprirsi una fase di stabilità con temperature che specie nella seconda parte della prossima settimana potrebbero subire un vistoso aumento con valori massimi che su molte località potrebbero raggiungere i 27 28 gradi centigradi. Come sempre invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.